Gli stagisti fanno una fila per venire in Forchezza. Noi di Forchezza siamo infatti dalla parte opposta al si è sempre fatto così. In Forchezza abbiamo detto basta con i soliti direttori creativi iniziati. Sanno che qua si cresce molto, si cresce bene e in fretta. I ragazzi sono molto motivati rispetto a questa cosa. In effetti io fino a un mese fa ero solo uno zerbino. In effetti io penso che l'Italia è siccome è... Io forchezza darei una gamba. Lavorate, bastardi! L'altro. Il bello, sì, è vero! Il bello che non mi piace, l'orso più oltre che ci hanno però. Acce quando gli altri lasceravi si sono bloccati, zanno i suoi inserimi e ero il corpo. Ecco, facciano le cuore, perché sono un bel pollo che fa per venire. Cosa fa per venire, perché c'è roba me in. Cosa fa per venire, евciano le cuore. Siamo campioni del mondo! Siamo campioni del mondo! Siamo campioni del mondo! Grazie! 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 Grazie!